ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come la fidanzata di aaron fa sciogliere in lacrime il cantante di amici ecco finalmente chi è la giovane che gli ha rubato il cuore il serale di amici procede a passi da gigante e i talenti superstiti nel format mariano accusano sempre più lo stress della competizione serrata per tale ragione gli autori del programma indulgono a qualche sorpresa inaspettata omaggiando cantanti e ballerini con dediche da parte dei familiari e degli affetti più stretti in modo da galvanizzarli in vista del rush finale anche il biondissimo aaron ha ricevuto una tenera missiva dalla misteriosa fidanzata silvia e la consegna della lettera è stata accolta dal cantante con stupore ed emozione dopo averla aperta ha condiviso con i compagni le parole incoraggianti della giovane partner senza lesinare su qualche lacrima di gratitudine e nostalgia nei suoi confronti aaron legge il messaggio della fidanzata silvia il cantante ha recitato ad alta voce amore mio ti sto vedendo giù in questi giorni aaron in effetti non ha ben digerito la recente stroncatura al serale da parte di cristiano malgioglio e silvia quindi sottolineato ti sei dimenticato di quanta gente ti ama e aspetta il sabato sera per sentirti cantare ci vado diretta smetti di non sentirti accettato aaron ha quindi proseguito la lettura voglio vederti fiero di quello che sei tutti sappiamo chi sei ti manca credere in te stesso mettici il cuore puro dovessi uscire domani per me hai già vinto amici dal 14 settembre 2022 forte amore mio ti amo la premurosa missiva ha profondamente commosso il cantante che ha spiegato ai compagni è una persona che si impegna tanto per farmi bene e io spero tanto di farle del bene mi manca sono sette mesi che non ci vediamo silvia è la ragione per cui sto qua ho sempre avuto paura di dimenticarla ma probabilmente dal 14 settembre io non ci ho capito un ca asterisco asterisco o e sta ancora qua le lacrime di aaron sembrano testimoniare la profondità del rapporto con silvia di cui abbiamo finalmente un'immagine esclusiva ecco chi è la fidanzata di aaron dai meandri dei social spunta una foto di coppia che ritrae il giovane aaron in atteggiamenti intimi con la fidanzata silvia probabilmente anch'essa perugina l'avvenente compagna del cantante sfoggia lunghi capelli castano miele ed un look acqua e sapone difficilmente ravvisabile nelle sue coetanee felpa o versizze e sorriso innamorato appoggia le mani curate sul petto del fidanzato rivolgendogli uno sguardo incoraggiante e fiero riuscirà la sua romantica missiva a regalare ad aaron il power up necessario per la finale grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace e commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video